E' pronto ragazzi, benvenuti in questo video di Diego E' pronto ragazzi, benvenuti in questo video di Diego Oggi siamo qua, sempre su Fall Guys Il ritorno Oh, cosa viola No! No No, c'è una vai No, c'è una... Io c'è sto, io c'è sto E' il tronco preso No, ho stato male, non ci credo Oh, oh Stemate i disconnetti, no No, c'è il cavolo davanti Mario Ragazzi, non ci posso credere Ma sono ben due anni, siamo tornati su Fall Guys In verità, avevo già registrato ma poi è andato tutto a puttine Vabbè, andiamo avanti Voi direi ad andare a giocare l'eliminazione, non ho capitato né skin, né niente Non ce ne prega assolutamente nulla Mi raccomando una bella iscrizione, un bel like se volete altri episodi di Fall Guys Sentite qua sotto nei commenti se voi ci giocavate o ci giocate ancora Perché magari qualcuno di voi ci gioca ancora a questo gioco Ok ragazzi, eccoci nel primo round Quindi ci sono lo schiva la melma Ottimo Quindi, che devo fare? Ah, devo sopravvivere in qualcosa Qual è la melma? Oh, raga Io nel dubbio sto qui, bello tranquillo Sei eliminati Posto, qualificazione raggiunta Non ho capito quale fosse la melma Però, nel mentre ci siamo qualificati Oh, bello, Spacefall Ma anche questo ovviamente l'abbiamo fatto Ma ragazzi, bisogna dimostrare che siamo i più forti Bisogna dimostrare Oh, ragazzi, mi ricordo due anni fa Distruggevo tutti su Fall Guys Beh, ma come sono in 12 se qualificano, dai No, so caduto, porco No, raga, no, non mi qualifico, raga Qualificato, terzo Raga, raga, non mi qualifico Io sì 15, 16, 18, 20, 20 No, per un Mamma, oi No, ho saltato male Non ci credo No Non per tirarmela Ero bravino su Fall Guys, comunque Partiamo Via, salta 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 Ole No, questo ti rimanda indietro Vai là Oddio Ottimo Salta Non ci credo, ma non ci credo Vai Sì Boh, andiamo qua sotto, ragazzi Non lo so Sto andando così a caso Via, togliti Oddio Ok 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 Dai, ci siamo quasi Aggrappati Easy Non mi scivola, ragazzi Riesco di perdere Mamma mia Mamma mia Mamma mia Oddio, è qui Arriva No Oddio, tre palle Belle Una brutta sensazione Perché ho una brutta sensazione? Ed eccoci in partita Questo circuito frigorifero Me lo ricordo molto bene Una mappa Di merda Letteralmente Boh, mamma mia ragazzi Che pro player che sono? Con calma Con calma Con calma Facciamo passare questo Ci siamo Let's go Wow Il rotatore Questo me lo ricordo Non è così semplice Come sembra Poi c'è l'aria lì Che ti frega Mi devo ricordare Bisogna tipo andare Sempre avanti Perché se si ferma L'aria tipo Continua a girare verso uno E ci butta fuori Quindi non bisogna fermarci Salta Ecco Mica Ho cominciato benissimo Via Salta Ottimo Oh Ok Oh ma qui si incerano una volta Naccia Quando c'è bisogno Let's go Via Sali dai Come funziona? Ah Non lo so ragazzi come funziona Cioè io sto andando un po' a casaccio Via 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 Oh salta Ottimo E beh stiamo andando bene comunque Eccolo l'ho detto Orca troia Via Dai salta Ante ferma Ma io bo' Ah dovevo andare sopra Minchia Non lo sapevo E lì Il traguardo è lì Sei Sì Non ci credo Pensavo mi dovessi buttare di sotto In verità dovevo prendere i puoi La probabilità di vincere questa Sono bassissime Poi io non la vincevo mai Ok Bello 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 Ci sono eh Eccolo lì L'ho detto ci sono Porca troia E certo la palla è proprio a me Proprio sulla mia testa E ha vinto Ha vinto il pollo Invece no E niente Non potevo Non potevo Ma la palla ha preso proprio me Tra tutte le persone ha preso proprio me Ok eccoci nella terza partita Faro segnalatore Questa Penso che sia abbastanza semplice Bisogna stare In quel robo giallo Che vedete a schermo Teoricamente bisogna arrivare Tipo a una percentuale Credo Vieni qua Perché vai dagli altri Mannaccia miseria No 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 Riprende il pulsante Bravissimo Comunque 45% eh Dai 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 Salta salta No E lasciami sopra Oh Ci siamo ci siamo ci siamo Salta 95 Se vuoi perdere Ok 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 no Perché se andavo a perdere Spaccavo il computer Ah io non so dove convenga Di più a sterrare Forse in questi costi qua a destra Beh Vai vai Iniziamo già a prendere un po' di zona Sali 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 Ok Oh E niente Sì ma poi Non voglio Oh mi sono salvato E niente non mi sono salvato Scendiamo scendiamo veloce veloce 45% Che Che cosa appena visto Vabbè Non me lo chiederò Dai 88 Dai mi qualifico per forza Non posso Let's go Mamma mia Dai già 2 su 6 Su Finiti eliminati Veloci anche Dai togliti Uh 27 secondi Ok ne manca uno Ne manca uno Ne manca uno Let's go Qualificazione raggiunta Ma questo no Patina di ghiaccio Cioè me lo ricordo come funziona Ma è brutto Ok round finale Patina di ghiaccio Questo me lo ricordo E molto bene Quante ne ho perse qui E quante ne ho prese Non so neanche se l'ho mai vinto In questa modalità una corona Ma va bene Io non pretendo di vincere la corona Al primo video di Fall Guys Dopo 2 anni Assolutamente no Oddio Dall'altra parte Quasi tutta spaccata Ma se la smette Questo di correre Abbiamo perso ragazzi Abbiamo perso Sicuro Dai questo Usk Dai abbiamo perso Pirla C'è quell'altro Che ha più blocchi di noi E niente O invece No no Ha vinto Ha vinto E ho perso Dai Ragazzi avete perso Perché l'altro C'ha più blocchi di voi Intelligentissimi Va bene ragazzi Spero che questo Video dopo 2 anni Di Fall Guys Vi sia piaciuto Non abbiamo vinto Ma in caso Sarà per la prossima volta Mi raccomando se volete Altri appuntamenti Un bel like Una bella iscrizione A te Da campanile A prestare a ragionare Sui prossimi video Anche in generale Non solo di Fall Guys Basta ragazzi Vi ho detto tutto Cioè adesso vado Non lo so Vado a mangiare Perché c'ho fame